Ciao a tutti i Roblox segretari e bentornati in un nuovo video Sono un pollo, come potete vedere siamo su Roblox e anzi dobbiamo vivere da pollo, proprio così Devo fare le uova, devo mangiare il grano, devo sopravvivere da pollo Comunque sia io da pollo vi ricordo che è appena uscito il libro di bella faccia Lo trovate qua sotto in descrizione, che aspettate, quindi questi due si stanno beccando Ok, allora quindi devo, come potete vedere devo beccare E devo raccogliere i punti, ok E devo fare anche le uova, ok vediamo, per ora ho 0 stelle e 0 uova Quindi mangia, mangia bella faccia, mangia che nonna, nonna polla ti vede sciupato Continua a beccare, continua a beccare, ok questo è il granaio, questo è il granaio Questo qui è il mio amico, ok parla, salve, ciao cicchi, non sono cicchi, sono bella faccia Sei nuova nel gioco? Sì lo sono Assicurati di premere il pulsante auto per un'interruzione di bambino No grazie, grazie, non ne ho bisogno, grazie, arrivederci, penso di sì, stammi bene, stammi bene Ok, queste sono le uova che non possiamo prendere perché ovviamente costano, ok Ok, e quindi direi di andare, che, che, era un pollo, era un pollo ribaltato Ok, quindi becchiamo, mangiamo, vediamo che abbiamo nell'inventario Ok, come potete vedere devo cercare di raccogliere, ok, 18 pezzi di paglia, 18 bastoncini e 18 pezzi di pietra E sicuramente dopo faccio l'uovo, ok qua, un uovo, sì, uovo di bella faccia Abbiamo un uovo, sì, co, 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 dobbiamo covarlo Coviamo quest'uovo, ti proteggerò a costo della mia vita, eh Ok, quindi abbiamo un uovo, fantastico Quindi se riusciamo a raccimolare tutte queste cosine possiamo fare un uovo Ok, bello questo nascondiglio per l'uovo Ok, allora, secondo me devo proteggerlo perché ci sono dei predatori, eh Sicuramente dei polli vorranno rubarmi le mie uova, ne sono certo Co, 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 ok, allora, non riesco a trovare la pietra, non capisco dove si trovi Abbiamo due stelle, fantastico, possiamo già fare un altro uovo, eh Allora direi di metterlo dove lo possiamo nascondere Qua, ok, qua è veramente nascosto Co, 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 ok, un uovo Abbiamo nascosto il nostro uovo, fantastico Ok, non vedo predatori Non vedo predatori Abbiamo tre stelline, cinque stelline, eh Ok, non ho più spazio, come non ho più spazio Ok, non abbiamo più spazio per i legnetti Siamo full legni Ci serve della pietra Cocco D, ci serve della pietra Ok, qua c'è un'isola C'è un'isola dove dobbiamo andare Però prima voglio cercare di raccogliere più cose possibili Ok, allora, posso fare un altro uovo Direi, chi è? Ho sentito qualcuno Direi di farlo qua No, l'uovo! Mi è cascato l'uovo! Ok, ok, abbiamo l'uovo Tranquili, tranquilli, è tutto, eh, tranquilli, è tutto ok Ok, qua dentro, qua dentro, è un bel posto dove fare le uova, eh Ok, allora, vediamo Ehi, salve Andate via dalle mie uova Andate via dalle mie uova Andate via dalle mie uova Ehi Bocco mio, vai via Vai via dalle mie uova Vai via dalle mie uova Vai via dalle mie uova, hai capito? Non devi rompermi le scatole Distrutto E adesso questo piccolino è mio, sì? Uovo, sì Codè, 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 codè Lo sta rompendo Gli sta rompendo un uovo Oh, poverino Sì, abbiamo rotto un uovo Fantastico Oh, mio Dio, vuole la vendetta, quello sicuramente, eh Ok, mamma mia Siamo super potenti Vediamo, allora Devo raccogliere ancora la paglia Devo raccogliere la palla Muoviamoci Muoviamoci, muoviamoci, muoviamoci Allora Direi che questo è un buon posto Per un uovo Ok, uovo Uovo Tieni Ti covo qua, eh Mi raccomando Stai lì E non muoverti, eh Ok Cavolazzo, allora vediamo Questo cos'è Ok, luogo Salva, carica Allora, a me servono delle pietre, però, eh Servono delle pietre Che è sto posto? Perché è così? No, 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 no Non voglio guai Amico Amico, non voglio guai Me ne sto lontano, eh Me ne sto lontano Ma anch'io voglio Un pollettino che mi segue Perché i miei figlioletti non si schiudono? Perché non si schiudono i miei figlioletti? Devo forse stare qua? Devo stare qua sopra? Devo covarlo? E coviamolo Oh, fatti covare! Fatti covare, stupido Uovo Ok, mi manca solo la pietra E dove la trovo sta cavolo di pietra? Proviamo ad andare dall'altra parte È un pulcino! Sì! È dato il pulcino di bella faccia Non toccare il mio pulcino, eh Non toccare Non toccare Non toccare Ah, mi sto facendo malissimo Perché mi fa male solo a me? Non toccare il mio pulcino Non toccare Toccare il mio pulcino Toccare il mio pulcino Non toccare il mio pulcino Che ti spacco tutte le ossicine Hai capito? Hai capito che non devi toccare il mio pulcino? Ah, scappi adesso, eh Eh, inutile rabbetto Eh, sarà meglio che cocco de scappi Ah Cocco de, cocco de Vieni qui, pollastro Eh, sei un pollo Sei un pollo Vieni qui Cocco de, cocco de, cocco de, cocco de Non puoi niente contro il pollo Bella faccia Sono io dei polli Questo zocco è mio Guardate come fa Scappa Questo nabbo Vieni qui È inutile che scorri Ti acchieppo Stupido pollo Cocco de Vieni qui, guardate che nabbo Vieni qui, cocco de Ti distrugge in due Oh Oh, ma beccati qua Oh, ma che Ci siamo fatti a vincenza No No, per favore no, eh No, io voglio il mio avvocato Voglio il mio avvocato Ok, allora vediamo Che è qua Pietra Prendi pietra Oh Ah, la pietra è qua ragazzi L'ho capita adesso Cocco de, cocco de, cocco de Prendiamo la pietra Prendi la pietra Bella faccia Ok, 4, 5 Forza, forza, forza Ma che, dobbiamo fare il nido dopo? Forse per il nido? Mamma mia, un sacco di stelle Ma anche Che cos'è sta cosa? Oh Guardate quante stelle che ha quello Ma ne ha un sacco Oh mio Dio Un pulcino Ha un sacco di pulcini È un grande quello Grande pollo Wow, sei veramente forte No No, non voglio guai Non voglio guai Andiamo via pulcino Pulcino muoviti Andiamo via Andiamo via Ok, rocce Siamo full E quindi Adesso Cosa possiamo fare? Possiamo entrare qua? Cocco de, cocco de, cocco de, cocco de Cocco de Ok, fantastico 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 Questo è il nostro posticino Fantastico Allora creiamo questo Vediamo Gira 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 Qua Qua ci può stare carino? Ok Il pollaio Fantastico Poi creiamo La porta possiamo fare Le fence Ok Creiamo le fence Così non ci vengono a rompere le scatole Quei polli Ok Fence Fantastico Poi che altro? Ok Fence Ah ma questo è per entrare? Forse è per entrare Ok Fence lunga No, non ho più Non ho più denaro Non ho più denaro Ok, allora Facciamo un uovo Cocco de, cocco de Ok, un altro uovo Fantastico Ma di qui si esce forse? No, ok Oh mio dio ragazzi È pieno di polli È meglio fare attenzione Ok Cocco de, cocco de Un altro uovo Facciamo tutte le uova che possiamo Un fuoco Cento stelline Si servono Le possiamo fare? Vediamo No, non ho abbastanza stelle Ne ho solamente 37 Dobbiamo muoversi ragazzi Dobbiamo muoversi Raccogliamo più stelle che possiamo Per costruire il nostro pollaio Incredibile Mamma mia Quante uova che stai facendo Cocco de, cocco de, cocco de Quante uova Allora 46 Vediamo 46 Long fence Ok Direi di metterne una qua Ok Così Fantastico Perfetto Un altro long fence Qui Non possiamo Siamo poveri Ottimo Guardate Non posso entrare Furbo questo Furbo, furbo, furbo lui Adesso le farò anch'io Le fence Stai tranquillo Cocco de, cocco de Faccio un bagno Ma come cavolo fai il bagno Oh mio dio Sono pazzo Sono proprio pazzo ragazzi Ok Fantastico Un altro uovo Ah le mie uova Al sicuro Tutte al sicuro Le mie uova Ok Long fence Ok Qua la mettiamo Meglio 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 Che se no Entrano i predatori Entrano i predatori Ok Non ho i materiali Ma cosa mi manca Ah il legno Mi manca il legno Cavolaccio Adesso la fai Ok Fantastico Quanto legno abbiamo Tre Vediamo poi Cosa possiamo fare Ok Panchina Una torcia Torcia possiamo farla La posso mettere qua Bella la torcia Qua Tutte le mie uova Che stanno crescendo Sono proprio un bravo papi Sì Sono un bravo papi Sì Trinzi alleanze Con altri polli Ma col cavolo I polli vogliono solo Manzare le mie uova Ve lo dico io Che quei maledetti Non vedono l'ora Di manzare le mie uova Oh pulcino Non mi dire No ma che cavolo Esci di qui Ma guardate i miei pulcini stupidi Che restano incastrati Non ho parole Ok un altro uovo Fantastico Sto facendo un sacco di uova Ok allora vediamo Cosa possiamo creare Il nido Ma c'è il nido Non l'ho visto Io continuo a lasciare le uova Così a caso Allora vediamo Un'entrata 12 e 22 Non li abbiamo mai nella vita Infatti 9 Ce ne mancano ancora un po' Ok Porta alta Vai Ok questa è la porta Fantastico Wow Dai ma il mio pulcino è incastrato Il mio pulcino è un abbetto Ma dai ragazzi Seguimi piccolino Dai Seguimi piccolino Dai forza 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 Oh si è schiuso un altro pollo Grande Si è schiuso un altro pollo Allora vediamo Per fare il nido Abbiamo abbastanza stelle Lo mettiamo qua Si Nido Ok nido Fantastico Fatemi passare Ho troppe uova Cavolazzo Mamma mia Grande bella Sei proprio un bravo papi Un bravo papi Un altro uovo posso fare Fantastico Fantasticissimo Guardate quanti pulcini Che mi stanno seguendo Cresceranno sani e forti Ah un altro uovo Perfetto Ricordo Ogni uovo ti da più uno Per 30 secondi Fantastico Allora continuiamo Con queste uova Ragazzi ho troppe uova Qua dentro Ma che è Dai Andiamo a rompere le scatole Agli altri polli Andiamo Dai vediamo Qua non posso andare Ok è stato furbo questo Fatemi entrare Fatemi entrare Ehi tu Fammi entrare Vieni qui Vieni qui Che ti faccio vedere io Vieni qui Pollettino Che ti disintegro Vieni qui Ehi non mi rubare i legni Sono miei questi legni Hai capito Vattene via dal mio territorio Ho un altro uovo Lo mettiamo qua Mamma mia Sono pieno di uova Sono pieno di uova Allora Long fence La mettiamo Qua Fantastico Sto creando un recinto Perfetto Per i miei piccoli Bello Gira a largo Dal mio pollaio Hai capito Se non vuoi ritrovarti Cap L'ultima fence E ho protetto tutto Si che pollaio ragazzi Ho protetto tutto Sono proprio un barravo papi Allora vediamo Che altro possiamo fare Il fuoco Fuoco possiamo farlo Vediamo un po' No ancora no Non è abbastanza materiale Ma che serve per fare il fuoco Cento Poi Quattordici E dieci di quelli Ma ho capito Ma è un materiale che non ho Guardate che bello Il mio pollaio E forse ho capito Dove prenderlo Là dentro la miniera Sto arrivando Sto arrivando Ci sono un sacco di altre isole Comunque sia Eccomi Devo entrare Ok pollettini Pollettini fate molta attenzione Vuoi entrare nella caverna Sì Oh cavolo Fate molta attenzione State dietro al papi State dietro No no Non voglio lasciare la caverna No State dietro al papi Dietro al papi Mi raccomando Prossimamente Ma che è I polliminatori I polliminatori Aiuto Non riesco a uscire I polliminatori Ma non riesco Non riesco Come faccio Mi serviva un po Eh che cavolazzo Dobbiamo uscire Pollettini Mi dispiace Coccodè 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 Ok mi raccomando Ehi tu Gira a largo Gira a largo Gira a largo Che ti faccio vedere io Altrimenti Un altro uovo Devo fare un altro uovo Mamma mia E' pieno di uova Qua E' pieno zeppo di uova Ok, direi comunque sia che abbiamo fatto un bel lavoro Abbiamo messo anche il fuoco, sì, per curarci Ragazzi, spero che il video di Apollo vi sia piaciuto Fatemi sapere se volete un uovo alla coca Che magari ve lo preparo Da me è tutto E ci vediamo in un prossimo video di Roblox Ciao Ciao